Tutti timidi? No, dai. Tutti timidi? Se no passiamo, torniamo alle domande della nostra piammetta, che non mi dispiace. Allora, visto che stiamo parlando di terbi, la domanda che ti congo è questa. La Lancia è scesa con il lutto al braccio, paradossalmente la Roma, allenata da un francese, Ludicazia no. Allora mi chiedo come mai, se tu tra l'altro vuoi spezzare una Lancia invece che una matita a favore di Ludicazia, vado a vedere a proposito. Guarda, io so che comunque loro sono scelte con la maglia e l'ufficio al lì, però il lutto al braccio era dedicato ad un ex portiere bianco celeste, dicevo che tutti i giorni prima, Ruben Gandella, però comunque è una Lancia a favore di Garzia, perché lui ha praticamente il giorno prima dei terbi in conferenza lasciato delle matite sulle sedie dei vari giornalisti che avrebbero partecipato alla conferenza pre-terbi e quindi ho provato questo gesto molto bello. Però come è stato detto anche a diversi giornalisti, la matita si va a consegnare l'attentato del soli, invece la maglia ha un maggiore riscontro mediatico, l'hanno vista il mondo. Sì, però secondo me l'importante è fare il gesto ed era rivolto a dei giornalisti, visto che l'attentato comunque è stato in una redazione, sì, è venuto in una redazione giornalistica, ho trovato molto apprezzabile anche il gesto di Ruben Garzia. Perfetto. Quindi secondo te la Lazio non ha vinto il derby nel sociale? No, l'ha vinto. Voglio sforgugliare un po'. No, 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 l'ha vinto anche la Lazio, ho saputo ho fatto il giro del mondo con questa maglia del special lì, però l'ha vinto anche Garzia e poi penso che lo senta davvero essendo francese. Grazie.